Anticipazioni tempesta d'amore, lunedì 25 maggio 2020. Tim vede Franzi in difficoltà e l'aiuta a svolgere alcune mansioni a casa sua. Nadia Holler, la ex del Degen, arriva al Fustenhof. Vuole incontrare il ragazzo al più presto. Ha saputo che è il figlio del ricco Christoph Salfield e vuole sposarlo a tutti i costi. Si scopre che la giovane aveva rifiutato la proposta di nozze di Tim qualche settimana prima. La sorella di Hildegard si è rotta il polso. La zombie Claire deve passare da lei. Alphonse e sua moglie così non possono trascorrere la serata insieme come avevano inizialmente progettato. Michael chiede a Natasha di non controllarlo. La donna è molto preoccupata per il suo stato di salute soprattutto dopo aver scoperto che è diventato dipendente da tranquillanti e psicofarmaci. Il dottore intanto è sempre più confuso. Linda finge di aver bisogno del sostegno di Andrea in cucina. Deve preparare dei dolci molto complessi. Lo chef però si accorge che la donna in realtà padroneggia bene le ricette. Forse la sorella di Christoph voleva semplicemente passare un po' di tempo con lui? Affascinante e senza scrupoli, Nadia decide di stabilirsi definitivamente a Biclaim per conquistare The Gen. Grazie a tutti! Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!